Il corso di laurea magistrale in lingue per la comunicazione e i servizi culturali LM38 è rivolto ai laureati in lingue e culture moderne, mediazione linguistica e a studenti provenienti da altri corsi di laurea come lettere, peni culturali, scienze del turismo e scienze della comunicazione purché siano in possesso di competenze linguistiche in due lingue straniere pari almeno al livello B2. Il percorso formativo è articolato in due indirizzi, comunicazione interculturale e comunicazione per i servizi turistici e culturali. L'indirizzo per la comunicazione interculturale prevede il rilascio del doppio titolo con l'Università di Artois in Francia. Il corso di laurea si propone di perfezionare a livello di padronanza la formazione linguistica di due lingue, europee ed orientali. Inoltre, consente anche l'acquisizione di ulteriori competenze in diversi ambiti come l'ambito economico-giuridico, storico-geografico, tecnologico, sociologico e didattico-pedagogico. Gli studenti possono scegliere due lingue straniere tra il cinese, l'arabo, l'inglese, il francese e lo spagnolo. Oltre alle lezioni frontali, il percorso formativo prevede approfondimenti attraverso workshop, esercitazioni con gli esperti linguistici, attività laboratoriali e attività di tirocinio che gli studenti possono svolgere in Italia e all'estero. La formazione interdisciplinare consente ai laureati di poter lavorare con funzioni di elevate responsabilità in ambiti legati alla mediazione linguistica e culturale, alla cooperazione internazionale e alla progettazione turistica e culturale di eventi e promozioni legate al patrimonio territoriale. Ose speramos a todos. Asta pronto. Sanarakum karibba nincialla. Ma assalama. I hope you'll consider coming to Cover University because it is a cut above the rest. I hope you'll consider coming to Cover University.